Allena l'intelligenza artificiale a comprendere per chi sei e questo diventa utilissimo perché da una parte devi ragionare con la tua tipologia di intelligenza, di esperienza, di contenuti ragionati attraverso un metodo, ma dall'altra parte i motori di ricerca, guarda Facebook, guarda YouTube, guarda tutti quelli che sono i canali che promoveranno i tuoi contenuti, li allenerai a capire per chi sei.